Buonasera a tutti, eccoci nuovamente insieme per gli ultimissimi aggiornamenti da parte di INPS in merito alla carta spesa o carta dedicata a te fino a 500 euro. Come ben sapete i requisiti sono avere un ISEE pari o al di sotto dei 15.000 euro, nuclei familiari con almeno tre componenti, di cui minori, nati entro il 31-12-2010 o 2006, ma comunque sia prevale sempre l'ISEE più basso. Questa carta non viene data alle persone che già usufruiscono di altri aiuti dello Stato, chi prende la cassa integrazione, la CIG, non viene data a chi prende l'assegno di inclusione ADI, non viene data alle persone che sono in ASPI, non viene data alle persone che prendono la carta acquisto social card da 80 euro, non viene data a chi prende il bonus SFL da 350 euro. Come dicevo le ultimissime novità, cosa che io già sto dicendo da diverse settimane, che le persone che hanno beneficiato di questa carta nell'anno 2023, se verranno scelte nuovamente per avere anche quest'anno il bonus da 500 euro della carta dedicata a te, l'importo verrà corrisposto sulla vecchia card, quella che attualmente tutti hanno disabilitata e lo è già dal 16 marzo 2024. Quindi, ripeto, IMSS ieri ha confermato che la ricarica agli aventi diritto dell'anno scorso arriverà direttamente sulla vecchia carta, mentre i nuovi dovranno recarsi previo avviso da parte dei comuni e da parte di IMSS presso gli uffici postali per ritirare la nuova carta.